10. Il più ricco dei piccoli principi dello Stato stava dando una festa. Lelia apparve lì abbagliante nella sua eleganza ma triste sotto il luccichio dei suoi diamanti e meno felice dell'ultima delle ricche donne borghesi che si pavoneggiavano orgogliose nel loro sfarzo di un giorno. Per lei questi piaceri ingenui della femminilità non esistevano. Trascinò dietro di sé il velluto e il raso ricamato d'oro e i fili di gioielli e le lunghe morbide ariose piume senza gettare sugli specchi quello sguardo infantile di vanità che riassume tutte le glorie di un sesso ancora infantile nella sua decrepitezza. Non gioca con i suoi aghi di diamante per mettere in mostra la sua mano bianca e affusolata. Non passa le dita con amore tra i riccioli dei suoi capelli. Quasi non sa di quali colori sia adornata, di quali tessuti sia vestita. Con la sua aria impassibile, la sua fronte pallida e fredda, i suoi abiti ricchi, si sarebbe facilmente presa per una di quelle madonne di alabastro che la devozione delle donne italiane ricopre con abiti di sete e stracci lucenti. Lely era insensibile alla sua bellezza, come la vergine di marmo alla sua corona d'oro cesellata e al suo velo di garza d'argento. Era indifferente agli sguardi fissi su di lei. Disprezzava troppo tutti questi uomini per essere orgogliosa delle loro lodi. Cosa ci faceva al ballo? Era venuta lì in cerca di uno spettacolo. Queste vaste immagini in movimento, disposte con più o meno gusto e abilità nel contesto di una festa, erano per lei un oggetto d'arte da esaminare, criticare o lodare nelle sue parti o nel suo insieme. Non capiva che in un clima povero e freddo, dove le abitazioni sono strette e sgraziate e ammassano gli uomini come balle di merci in un magazzino, si potesse vantare lusso ed eleganza. Pensava che a queste nazioni il senso delle arti fosse necessariamente straneo. Le facevano pena i cosiddetti balli in quelle sale tristi e anguste dove il soffitto schiaccia i capelli delle donne, dove per rispermiare alle loro spalle nude il freddo della notte l'aria vitale sostituita da un'atmosfera febbrile e corrosiva che intossica o soffoca, dove si pretende di muoversi e ballare nello spazio angusto segnato tra le doppie file di spettatori seduti che con grande difficoltà salvano i loro piedi dagli attacchi del waltzer e i loro vestiti dalla vicinanza delle candele. Era una di quelle persone difficili che amano il lusso solo in modo smisurato e che non vogliono una via di mezzo tra il benessere della vita interiore e la superba prodigalità dell'alta vita sociale. Inoltre ha concesso solo ai popoli del sud il privilegio di comprendere la vita di sfarzo. Diceva che le nazioni commerciali e industriali non hanno né il senso del gusto né l'istinto per la bellezza e che bisognava cercare l'uso della forma e del colore tra questi popoli invecchiati che in mancanza dell'energia attuale hanno conservato la religione del passato nei principi e nelle cose. In effetti nulla è più lontano dalla pretesa di bellezza di una celebrazione male ordinata. Sono così tante le cose da mettere insieme che forse nessuna è soddisfacente per l'artista in un intero secolo. Servono il clima, la sede, le decorazioni, la musica, il cibo, i costumi? Ci vuole una notte spagnola o italiana, una notte buia e senza luna perché la luna quando regna nel cielo riversa sugli uomini un'influenza di languore e malinconia che si riflette in tutte le loro sensazioni. Deve essere una notte fresca e ariosa con le stelle che brillano debolmente attraverso le nuvole e non sembrano prendersi gioco delle illuminazioni. Devono esserci vasti giardini i cui profumi inebrianti si diffondono negli appartamenti. Il profumo dell'arancio e della rosa di Costantinopoli sono particolarmente adatti a sviluppare l'esaltazione del cuore e del cervello. Abbiamo bisogno di cibi leggeri, vini gustosi, frutti di tutti i climi e fiori di tutte le stagioni. Ci deve essere un'abbondanza di cose rare e difficili da possedere perché una festa deve essere il compimento dei desideri più capricciosi, la sintesi delle immaginazioni più avide. Prima di dare un banchetto bisogna essere consapevoli di una cosa che l'uomo ricco e civilizzato trova piacere solo nella speranza dell'impossibile e dobbiamo quindi avvicinarci all'impossibile nella misura in cui all'uomo è consentito farlo. Il principe di bambucì era un uomo di gusto che è la qualità più eminente e rara per un uomo ricco. L'unica virtù richiesta a queste persone è quella di saper spendere bene il proprio denaro. A questa condizione sono liberi da ogni altro merito ma il più delle volte non sono all'altezza della loro vocazione e vivono in modo borghese senza abdicare all'orgoglio della loro classe. Bambucì è stato il primo uomo al mondo a pagare un cavallo, una donna o un quadro senza contrattare e senza lasciarsi imbrogliare. Conosceva il prezzo delle cose per uno scudo. Il suo occhio era allenato come quello di un banditore d'asta o di un mercante di schiavi. Il suo olfatto era così sviluppato che riusciva a capire solo dall'odore del vino, non solo il grado di latitudine e il nome del vigneto ma anche l'esposizione al sole della collina che lo produceva. Nessun artificio, nessun miracolo di sentimento o di civetteria era in grado di fargli sbagliare di sei mesi l'età di un'attrice. Solo vedendola camminare in fondo al teatro era pronto a redigere il suo certificato di nascita. Solo vedendo un cavallo correre per un centinaio di passi poteva indicare alla sua gamba l'esistenza di una zigrinatura impercettibile al dito del veterinario. Bastava toccare il pelo di un cane per capire in quale generazione ascendente era stata alterata la purezza della razza e su un dipinto di scuola fiorentina o fiamminga quante pennellate erano state fatte dal maestro. In una parola era un uomo superiore e così noto per questo che non poteva dubitarne lui stesso. L'ultimo banchetto che diede non servì a sostenere l'alta reputazione che aveva acquisito. Grandi vasi di alabastro sparsi per le sale, le scale e le gallerie del suo palazzo erano pieni di fiori esotici il cui nome, forma e profumo erano sconosciuti alla maggior parte di coloro che li vedevano. Aveva avuto cura di distribuire nel ballo una ventina di studiosi incaricate di fare da ciceroni agli ignoranti e di spiegare loro, senza affettazione, l'uso e il prezzo delle cose che ammiravano. La facciata e i cortili della villa scintillavano di luci ma i giardini erano illuminati solo dal riflesso degli appartamenti. Via via che ci si allontanava, ci si poteva seppellire in un'oscurità morbida e misteriosa e riposare dal movimento e dal rumore nelle profondità di queste ombre, dove i suoni dell'orchestra giungevano tenui e flebili, spesso interrotti dagli sbuffi di un vento carico di profumi. Tappeti di velluto verde erano stati gettati come dimenticati sui prati, tanto che ci si poteva sedere sopra senza sgualcirsi i vestiti e in alcuni punti campanelli dal timbro chiaro e flebile erano sospesi agli alberi e al minimo soffio d'aria seminavano il fogliame con note incerte o accordi senza continuità che si sarebbero potuti prendere per le voci grattugiate delle silfidi risvegliate dall'ondeggiare dei fiori dove si erano rannicchiate. Bambucci sapeva bene quanto fosse importante quando si vuole risvegliare la volutà nelle anime snervate e evitare tutto ciò che può causare l'affaticamento dei sensi. Inoltre all'interno delle stanze la luce non era troppo intensa per gli occhi delicati, l'armonia era morbida e priva di lampi di luce, le danze erano lente e rare, ai giovani non è stato permesso formare numerose quadrighe, infatti nella convinzione che l'uomo non sa né ciò che vuole né ciò che gli conviene il filosofo Bambucci aveva piazzato ovunque dei ciambellani che regolavano la quantità di attività e di riposo per ogni persona. Queste persone, abili osservatori e profondi scettici, frenarono l'ardore di alcuni perché non si esaurissero troppo in fretta e incoraggiarono avidamente la pigrizia di altri perché non tardassero a risvegliarsi. Leggevano negli occhi l'avvicinarsi della sazietà e trovavano il modo di prevenirla facendo cambiare luogo e divertimento. Indovinavano anche nell'ansia della tua passeggiata, nella fretta dei tuoi movimenti, l'invasione o lo sviluppo di una passione e se prevedevano qualche risultato immediatamente scandaloso sapevano come prevenirlo o facendoti ubriacare o improvvisando una favola non ufficiale che ti disgustasse delle tue attività. Ma se vedevano in presenza di due attori esperti di intrighi, non risparmiavano nulla per avviare e proteggere relazioni che potessero rendere le ore più leggere per coppie ben assortite. Inoltre non c'era nulla di più nobile e franco degli affari di cuore che venivano trattati lì. Da uomo di gusto Bambucci aveva bandito dalle sue feste la politica, il gioco d'azzardo e la diplomazia pensava che discutere di affari di stato, complottare, rovinarsi o condurre trattative attraverso i piaceri del ballo fossero tutte cose del peggior tono. Gli allegri amici di Bambucci sentivano la vita molto meglio. Non c'era grido popolare, non c'era mormorio subalterno che arrivasse a suo orecchio quando si divertiva. Il buon principe. Ogni feroce consigliere, ogni minaccioso pensatore fu bandito dai suoi intrattenimenti. Voleva solo persone amabili, persone d'arte come si dice oggi, donne alla moda, compiacenti, molti giovani, qualche donna brutta solo per far risaltare quelle belle e persone ridicole quanto basta per divertire il resto della società. La maggior parte degli invitati apparteneva quindi a quell'epoca in cui esistono ancora le illusioni e a quelle classi intermedie che hanno abbastanza gusto per applaudire e non abbastanza ricchezza per disprezzare. Era il coro dell'opera, era una parte dello spettacolo, una parte necessaria come la scenografia e la cena. Non lo sospettavano questi bravi cittadini ma ricoprivano il ruolo di comparse nei salotti di Bambucci. Come attori hanno avuto i benefici della festa, cioè il piacere, ma non hanno avuto l'onore. L'onore era riservato a un numero ristretto, un certo gruppo di picurei selezionati che il principi aveva in mente di abbagliare e affascinare. Questi erano davvero l'assemblea, gli ospiti, i giudici, gli amici che venivano trattati. Questa folla rumorosa e addobbata che veniva fatta passare sotto i loro occhi faceva del suo meglio, credendo di agire lì solo per proprio conto. Un discernimento amirevole da parte del principe di Bambucci. Queste persone di spicco erano per la maggior parte in grado di competere in lusso e genialità con il padrone di casa. Bambucci sapeva bene di non avere a che fare con dei bambini, per questo motivo si fece un punto d'onore supremo di sconfiggerli in invenzioni e prelibattezze di ogni tipo. Se il marchese delle Pamocchi era stato servito in vasi di vermeil, Bambucci avrebbe steso sui tavoli piatti d'oro puro. Se l'ebreo Zaccario Pandolfi aveva mostrato la moglie coronata di diamanti, Bambucci metteva diamanti anche sulle scarpe della sua padrona. Se i paggi del duca Almiri avevano i vestiti ricamati d'oro, i camerieri della casa di Bambucci erano ricamati con perle fini. Una degna e toccante emulazione tra i sovrani illuminati di nazioni intelligenti. Non bisogna farsi trarre in inganno, il compito intrapreso dal principe non era facile, era una cosa seria. L'aveva sognato più di una notte prima di tentare l'impresa. Prima di tutto doveva superare nel dispendio di denaro e di spirito tutti i rivali degni di lui e poi doveva riuscire a inebriarli di tanto piacere, che dimenticando l'orgoglio ferito dalla sconfitta avessero la buona creanza di ammetterlo. Ebbene, questa immensa impresa non sorprese la gigantesca immaginazione di Bambucci. Egli vi si lanciò sicuro della vittoria, pieno di fiducia nelle sue risorse e nell'assistenza del cielo, al quale aveva chiesto con nuovi giorni di anticipo, attraverso l'organo del suo clero, che non cadesse pioggia durante quella notte memorabile. Tra questi alti dignitari, ai quali l'intera provincia veniva asservita come uno spuntino, la straniera Lelia occupava il primo posto. Avendo molti soldi, aveva sempre una piccola famiglia e molta considerazione ovunque si trovasse. Nota per la sua bellezza, la sua spesa e la singolarità del suo carattere, fu oggetto delle più ingegnose attenzioni del principe e delle sue favorite. fu introdotta per la prima volta in uno dei saloni abbaglianti che erano solo il primo stadio della progressiva brillantezza riservata ai suoi occhi. Le persone di fiducia di Bambucci dovevano bloccare abilmente i nuovi arrivati e mantenerli interessati per un tempo adeguato a lasciarsi osservare. Il caso volle che il giovane principe greco Paolaggi entrasse contemporaneamente a Lelia e i ciambellani non poterono pensare a nulla di meglio per occuparli che mettere queste due eminenze sociali l'una di fronte all'altra in mezzo a una folla di ricchi e nobili di rango inferiore destinati a riempire i vuoti delle colonne e i vuoti del pavimento a mosaico. Questo principe greco aveva il profilo più bello che la scultura antica abbia mai riprodotto. Era abbronzato come otello perché nella sua famiglia c'era sangue moresco e i suoi occhi neri brillavano di una brillantezza selvaggia. La sua statura era snella come la palma orientale e in lui c'erano cedro, cavallo arabo, beduino e gazzella. Tutte le donne erano pazze di lui. Si avvicinò a Lelia con gentilezza e le baciò la mano anche se la vedeva per la prima volta. Era un uomo dei modi propri. Le donne gli perdonavano molte originalità considerando il calore del sangue asiatico che scorreva nelle sue vene. Parlava poco ma con una voce così armoniosa e uno stile così poetico, con uno sguardo così penetrante e una fronte così ispirata che Lelia si fermò per cinque minuti a osservarlo come una meraviglia. Poi però cominciò a pensare a qualcos'altro. Quando il conte Ascanio entrò i ciambellani mandarono a chiamare Bambucci. Ascanio era il più felice degli uomini. Nulla lo scandalizzava, tutti lo amavano e lui amava tutti. Lelia, che conosceva il segreto della sua filantropia, lo vide con orrore. Appena lo vide la sua fronte si riempì di una nube così scura che i ciambellani spaventati ricorsero al capo stesso per dissiparla. È questo che ti imbarazza? Visse Bambucci a bassa voce lanciando uno sguardo da rapace su Lelia. Non vedi che il più amabile degli uomini è insopportabile per la più attraente delle donne? Dove sarebbe il merito? Dove sarebbe il genio? Dove sarebbe la grandezza di Lelia se Ascanio riuscisse ad avere ragione? Se lui riuscisse a dimostrarle che tutto va bene nel mondo, a cosa dedicherebbe il suo tempo? Sappiate dunque quanto sia felice per alcune organizzazioni che il mondo sia pieno di storture e di vizi e sbrigatevi a sbarazzarvi di questo affascinante epicureo perché non capisce che sarebbe meglio uccidere Lelia che consolarla. I ciambellani andarono dolcemente a pregare Ascanio di dissipare la malinconia che si stava diffondendo sulla bella fronte di Paolaggi. Ascanio, convinto di essere utile, cominciò a trionfare. Era un uomo buono e feroce che viveva solo nel tormento degli altri. Passava la vita a dimostrare loro che erano felici per non dare loro alcun interesse e quando aveva tolto loro la dolcezza di credersi interessanti, lo odiavano più che se li avesse decapitati. Bambucci offrì il braccio a Lelia e la condusse nella sala egizia. Ammirò la decorazione, criticò educatamente alcuni dettagli stilistici, ma finì per deliziare Bambucci dicendogli che non aveva visto niente di meglio. In quel momento Paolaggi, che si era liberato di Ascanio, l'uomo felice, riapparve con Lelia. Aveva indossato un costume dei tempi antichi, appoggiato a una sfinge di diaspro. Era l'incidente più notevole del quadro e Lelia non poteva vederlo senza provare lo stesso senso di ammirazione che una bella statua o un bel sito avrebbero ispirato. Mentre lei condivideva ingenuamente le sue impressioni con Bambucci, lui si gonfiò come un padre a cui viene lodato il figlio. Non che nutrisse il minimo affetto per il principe greco, ma il giovane principe era bello, adorno e di grande effetto nella stanza egizia. Bambucci lo considerava come un prezioso pezzo di arredamento che aveva noleggiato per la serata. Poi iniziò a sfoggiare il suo principe greco, ma poiché nonostante la superiorità più consolidata e molto difficile preservarsi da inavvertenze nel tumulto di una festa di cui si ha tutta la cura, egli guardò involontariamente la statua di Osiride e da quel momento in poi due idee simili si incrociarono sfortunatamente nel suo cervello e fu impossibile per lui separarle. Sì, lo disse, è una bella statua. Voglio dire che è un uomo distinto. Parla il cinese come il francese e il francese come l'arabo. I fregi che si vedono nelle orecchie sono inestimabili, così come le malachite intarsiate sui piedi. E poi è una testa di fuoco, un cervello su cui il sole ha fatto cadere la sua influenza divorante. È una testa di cui nessuno possiede una copia e che ho pagato mille ecus a uno di quei ladri inglesi che esplorano l'Egitto. Avete letto il suo poema ad Elia e i suoi sonetti a Zamora alla maniera di Petrarca? Non posso assicurare che il corpo sia assolutamente identico, ma il basalto è così simile e le proporzioni sono così ben abbinate. Oh, quando Bambucci si rese conto dell'imbroglio rimase a bocca asciutta. Ma mentre girava timoroso la testa verso l'Elia, riprese coraggio quando vide che lei non lo ascoltava nemmeno e si allontanava rapidamente. 11. Pulcherì Tutti si precipitavano nel salone moresco e i maestri di cerimonia non riuscivano a contenere il disordine. Un giovane signore sosteneva di avere riconosciuto sotto un domino celeste la Zinzolina, la cortigiana più famosa del mondo, che da un anno era misteriosamente scomparsa dal paese. Tutti volevano essere sicuri del fatto che chi non aveva conosciuto la Zinzolina era ansioso di vedere questa donna tanto decantata. Chi l'aveva vista voleva rivederla. Ma il domino blu, un fantasma duttile e sfuggente, scompariva abilmente in mezzo folla, per poi riapparire in un'altra stanza, dove la folla lo inseguiva ancora. Chiunque avesse un domino celeste veniva assiduamente seguito e interrogato, e quando il vero fuggitivo fu riconosciuto, un grido di commozione risuonò in tutto il palazzo. Ma fuggì, prima che si potesse accertare l'esistenza della Zinzolina sotto quella fluttuante cuffietta di raso e la maschera di velluto. Finalmente raggiunse i giardini. Poi la folla si precipitò nei giardini stessi. Il tumulto fu immenso. Si sparpagliò nei boschetti. Gli amanti ne approfittarono per sfuggire all'occhio dei gelosi. L'orchestra suonava nelle pareti vuote e sonore. Le donne brutte o gelose prendevano il domino celeste per trovare amanti o per mettere alla prova i propri. Era un grande rumore, una grande risata, una grande ansia. «Lasciateli fare», disse Bambuccia ai suoi ciambellani trafelati. «Si divertono». «Bene, buon per loro. Riposate». Questo momento di follia e di curiosità aveva dato alle fisionomie qualcosa di duro e ostinato che non rientra nelle abitudini della natura civilizzata. Lelia, che pensava di osservare di nascosto con tanta attenzione le minime oscillazioni, della vita, su questo mondo morente, Lelia, che consultava ogni momento il polso del moribondo e si stupiva di trovarlo a volte così vigoroso e subito dopo così debole, notò qualcosa di strano nella disposizione degli spiriti durante quella notte. E persa e dimenticata nella folla, iniziò anche lei a vagare per i giardini per osservare da vicino gli incidenti fisiologici di questo cadavere della società che geme e canta e come una vecchia civetta si veste anche sul letto di morte. Dopo aver camminato a lungo, attraversando molti gruppi disordinati e in mezzo a un'allegria febbrile e incantata, si sedette stancamente in un luogo appartato e ombreggiato da cedri cinesi. Lelia si sentì oppressa, guardò il cielo, le stelle brillavano sopra la sua testa, ma verso l'orizzonte erano nascoste sotto una spessa fascia di nuvole. Lelia soffriva, finalmente vide una luce pallida scivolare sugli alberi, era un lampo e si spiegò l'inquietudine che provava perché il temporale le procurava sempre un dolore fisico, un'ansia nervosa, un'irritazione cerebrale, non so che cosa provassero tutte le donne se non tutti gli uomini. Allora provò una di quelle disperazioni improvvise che spesso ci colgono senza un motivo apparente ma che sono sempre l'effetto di un male interiore che da tempo cova nel silenzio della mente. La noia, un'orribile noia, lattanagliava la gola, si sentiva così scoraggiata, così malmessa nella vita che si lasciò cadere sull'erba e si abbandonò a quelle lacrime infantili che sono la terribile espressione di un completo abbandono della forza e dell'orgoglio umano. Lelia era più forte in apparenza di qualsiasi creatura del suo sesso, mai da quando era un elide qualcuno aveva colto i segreti della sua anima sul suo volto impassibile, mai una lacrima di sofferenza o di tenerezza era stata vista scorrere sulla sua guancia in colore e senza rughe. Aborriva la pietà altrui e nella sua più grande angoscia conservava l'istinto di sottrarsi ad essa, così nascose la testa nel suo mantello di velluto e lontana dal mondo, lontana dalla luce ranicchiata nell'erba alta di un angolo abbandonato del giardino, riversò la sua sofferenza in lacrime vane e vigliacche. C'era qualcosa di spaventoso nel dolore di questa donna, così bella e così adorna che giaceva lì, rotolando su se stessa, languida e terribile nel suo dolore, come una leonessa ferita che vede la sua ferita sanguinare e la lecca con un rugito. Improvvisamente una mano si posò sul suo braccio nudo, una mano calda e umida come il respiro di quella notte di tempesta. Lei trassalì e vergognandosi, irritata per essere stata sorpresa in quel momento di debolezza, quando nessuno l'aveva mai vista, balzò in piedi con un'improvvisa reazione di coraggio e si portò a tutta altezza davanti alla persona temeraria. Era il domino blu del ballo, la cortigiana Zinzolina. Grazie.